La rabbia del fratello Grande fratello Vip, Luca Onestini, la rabbia del fratello Luca Onestini al GF Vip, il fratello furioso sui social. A quanto pare le ultime dichiarazioni di Soleil Sorge hanno fatto davvero infuriare il fratello di Luca Onestini. . Difatti, Gianmarco, poco fa, dopo essere stato attaccato duramente dalla ex corteggiatrice di uomini e donne, è sbottato furiosamente, contrattaccando senza peli sulla lingua. . Cosa fa? Mi attacca e mi insulta pesantemente e insultare gli altri non migliorerà te e cara mi hai fatto nuovamente una pessima figura e. parole di fuoco quelle usate dal fratello del concorrente del grande fratello Vip. . Ma questa polemica da cosa è scatturita? Per i pochi che non lo sapessero, negli ultimi giorni la bella Sorge è stata sorpresa in compagnia dell'accerrimo rivale del suo fidanzato, scatenando un'indignazione generale. . . E sicuramente chi è rimasto maggiormente di stucco sono stati Gianmarco Onestini e Federica Beninca. . Difatti, il primo attuonato ieri pomeriggio contro la ragazza americana, asserendo di trovare questa amicizia assolutamente fuori luogo, ma anche Federica ha voluto dire la sua, non andandoci affatto giù leggera. Grande fratello Vip, il fratello di Luca Onestini attacca Soleil. . . Ieri pomeriggio, Federica Beninca, dopo essere venuta a conoscenza di questa amicizia venutasi a creare negli ultimi giorni tra il suo ex Marco Cartasegna e la sua amica Soleil Sorge, ha tuonato duramente su social, non risparmiando critiche e dubbi. . . Ma questi giudizi non sono piaciuti minimamente alla fidanzata di Luca Onestini. Motivo per cui ha attaccato tutti gli atere, soprattutto, Federica e il fratello del suo fidanzato, innescando un furioso botta e risposta su social. . 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